Fallo di Agazzi, probabilmente verrà munito quando terminerà l'azione. Cerca un pallone per Zerbin, ancora la copertura di Deberland, molto efficace, arriva in aiuto anche Bussaglia. Giù in maniera ottimale questo pallone, poi tenta di superare Deberland, che lo chiude, l'ultimo tocco poi è di panico, rimesso laterale. Posta per Golau, con l'area di rigore, viene fermato da Deberland, calcio d'ampio. Parodi ancora per Preschia, per Corazza, pallone toccato da Deberland. Altro pallone profondo per lo stato di Corti, Corti, guarda via Deberland, l'ultimo tocco, dovrebbe essere stato proprio Deberland. Buona la giocata di Marigosu, poi una palla di là di Letti, stupenda per Gagliano. Gagliano riesce ad arrivare però, Deberland, in scivolata, calcio d'angolo. Quindi il contropiede con Maestrello, imbeccato in avanti, lotta con Deberland, Maestrello, Deberland, ottimo, in chiusura. Ad attaccare, cross nel mezzo per Eusepi, allontana Deberland, poi... Cercato Comi, in area, la conclusione, da due passi, Zerbini ancora, in mezzo all'area interviene Deberland. Da Bertoncini-Cicconi prova a servire Gatto, buona chiusura di Deberland. Mancino a cercare Gucci, che prolunga di testa verso Chinellato, la chiusura di Deberland. Riuscito però a tornare sul numero due, poi recupera il Livorno su Ciccone con Marsura. Ribattuto da Peters, poi Deberland, sventaglia dalla parte opposta, a cercare Audi, scavazzato con Rea. Audi mantiene Deberland. Mazzeo a spazio su di lui Peter. La china della formazione ospite, ma è il Livorno adesso che riparte con Audi. Deberland, il destro per Bracken. La china della formazione ospite, ma è il Livorno adesso che riparte con Rea. Sì, di sinistra, Gallupini fa andare al cross, l'effetto per Maestrello anticipato da Deberland. Colmancino Ciccone mette fuori però Deberland. Colmancino Ciccone mette fuori però di Natale. La china del sleeve sulletti a Ciccone. Questa è un attore di questaанarie. Questa è diные? Questa è un attore. Per Nowa Di Bata Dio. Questa è un attore. Ciccone mette fuori però per Natale. Non ci arriva ma c'è Foresta Poi attenzione a Infantino La chiusura di Deverland Adesso ritorna nell'11 titolare Intanto Kabashi Arriva al limite Kabashi La finta Kabashi perde forse L'attimo buono per andare al tiro E poi va tra le linee verso Scardina Non riesce a controllare sul pressing di Deverland Deverland Lo punta Ciccone Poi col mancino Conclusione ribattuta da Deverland Prende il movimento dei propri compagni Si fa vedere Eusebi Non riesce a prolungare Recupera palla Perna Attenzione alla Gianerminio La pressione di Perna Che ha fruttato il recupero palla Palla che viene Prende il movimento di Perna Secondo tempo per la Lucca Seppolone è dentro Per Bianchi C'è la chiusura di Deverland Poi Gemignano Prende il movimento del 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 movimento Grazie.